ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo episodio della computer museo siamo tornati a fare unboxing questa volta non di sponsor ma bensì perché come sapete stiamo rivoluzionando ancora una volta per la sedicesima volta probabilmente nell'arco di cinque anni il nostro studio e quest'oggi siamo qui per andare a vedere un nuovo prodotto che sarà quello che confermerà gli schermi attaccati alla parete infatti abbiamo ordinato questi supporti chiamiamoli così da amazon che sono arrivati in un giorno costa 9 euro e 90 e sono supporti per televisione e fino addirittura 32 pollici 42 pollici fino a un peso massimo di 20 kg e sembrano fatti in plastica quindi non so quanto potrebbero reggere però magari mi sbaglio il pacco però arriva con come vedete con amazon un giorno che ogni volta sbaglio ad aprirlo ma dettagli dentro ce ne sono due come vedete ne abbiamo ordinati due e sono stra pesanti allora innanzitutto possiamo andare a vedere che i supporti sono di tipo universale quindi da attacco vediamo vediamo int per maggiore sicurezza per lasciate verificare compatibilità ok va beh allora abbiamo diversi tipi di angolazioni possiamo spostare massimo 20 kg veramente c'è proprio scritto qua in basso 20 kg di supporto quindi wow cioè allora andiamo ad aprire andiamo a vedere i nostri supporti quindi andiamo a vedere proprio cosa c'è all'interno un pacco devo dire che è impeccabile cioè è chiuso veramente bene e soprattutto i supporti costano veramente poco quella lì allora abbiamo i supporti ah sì sono in metallo sì altro che è un supporto in metallo appunto si aggancia qui il nostro televisore in maniera semplice e veloce poi la nostra placchetta va messa davanti il nostro supporto viene utilizzato con questi quindi abbiamo diversi sezioni di supporto televisivo quindi questo andrà ad incastrarsi in questo modo e poi da lì ci saranno delle cose apposite per agganciarlo oltre a questo ci vengono dati i bulloni poi tasselli ma credo più bullone per il nostro tv nonché anche la bolla per metterla dritto per farli capire e poi ah sì praticamente le punte da inserire all'interno del nostro muro proprio per agganciare al meglio il nostro supporto quindi veramente ottimo ci viene dotato di tutto e in più anche di una testa ah ecco allora ecco cosa si spiega questi mega bullone che è il bullone di praticamente spostamento quindi ci viene dato praticamente tutto e anche appunto le viti di aggancio televisivo quindi devo dire che c'è veramente tutto niente per il resto da computer museo è tutto grazie ancora al prossimo episodio che probabilmente sarà anche il montaggio dei televisori